ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale ho voglia di chiacchierare di un argomento che mi appassiona da tanto tempo e che proprio per il fatto che mi appassiona rischia di fregarmi periodicamente ovvero i libri che parlano di libri dunque ho notato un uno spropositato moltiplicarsi di libri per amanti dei libri e con questo intendo libri ambientati nelle librerie nelle biblioteche libri con libri librerie biblioteche nel titolo libri che parlano di librai libri sul potere dei libri insomma mi sembra che questo tema sia praticamente ovunque ultimamente vedo spuntare come funghi libri che hanno queste copertine graziosissime con pile di libri pareti delle librerie poltroncine tazze di caffè insomma il mio immaginario preferito in una copertina e io mi faccio sempre fregare diciamolo mi faccio abbindolare questo perché credo passatemi questa riflessione che esistano i libri autenticamente dedicati ai libri e quindi all'amore per la lettura cioè libri per amanti dei libri proprio autentici mentre ci sono degli altri libri che a me sembrano un po delle mosse a tavolino per attirare i book lover che poi nove volte su dieci come me o meglio nel mio caso si fanno anche un po fregare da questa cosa e quindi comprano in maniera spropositata questi titoli che suggeriscono atmosfere di un certo tipo che promettono storie di libri di librerie di librai di biblioteche e quant'altro perché dico che mi sembra che esistano dei libri tra virgolette più autentici in questo senso perché se escludiamo diciamo questa questo filone narrativo filone di marketing chiamiamolo come vogliamo esistono dei libri che secondo me sono intramontabili quando si tratta di raccontare l'amore per la lettura uno su tutti per esempio l'ombra del vento io mi sono segnata un po di titoli che ho già letto che riconduco un po a questo appunto genere di libri che parlano di libri per gli amanti della lettura libri in cui un amante della lettura si può proprio croggiolare perché si parla delle sue passioni si parla di come i libri ci salvano in alcuni momenti per esempio mi sono segnata appunto l'ombra del vento il club del libro e della torta di patata di bucce di patata di guernsey scusatemi se lo cito per la milionesima volta però lì c'è un club del libro durante la guerra queste persone che si aggrappano ai libri e che trovano nei libri anche l'occasione per stare insieme in un momento difficile poi ho segnato libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici di daria bignardi che secondo me è un memoir molto sincero molto onesto quando si tratta appunto della lettura di quello che la lettura può fare per noi poi c'è i miei giorni alla libreria morisaki in cui una ragazza che non è assolutamente interessata alla lettura scopre questo mondo scopre questo quartiere del libreria Tokyo insomma ci sono dei titoli che ho letto che ho apprezzato molto c'è la biblioteca di mezzanotte in cui effettivamente si usa il l'immagine della biblioteca per parlare della vita per parlare delle vite che non abbiamo vissuto per parlare di libri come di vite che non abbiamo ancora letto tra virgolette e tutti questi sono titoli che comunque a loro modo mi hanno conquistata nel loro modo di parlare dei libri sono libri che in qualche modo mi hanno restituito un senso molto profondo di amore per la lettura di quello che i libri possono fare per noi e per la nostra vita poi però c'è un altro filone di libri che rischia ogni volta di farmi capitolare ma che secondo me sono anche in alcuni casi un po' delle mosse a tavolino perché se voi guardate dentro al mio kindle e c'è allora vi metto qui le copertine dunque la libreria dei giusti no la biblioteca dei giusti consigli questo l'ho letto e ne ho anche parlato bene perché mi aspettavo di peggio però poi c'è la biblioteca delle seconde possibilità poi c'è il gatto che voleva salvare i libri poi c'è la libreria di piazza delle erbe le ragazze della libreria bloomsbury cioè il mio kindle è intasato di questa tipologia di libri che ogni volta che trovo in offerta ebook a 1 euro 99 2 euro 99 lì a raffo così senza pensare e poi stanno lì e io stessa sono un po' scettica al riguardo nel senso che se voi guardate le copertine di questi libri e leggete le trame penserete che sono tipo tutte variazioni di un'unica di un'unica storia perché c'è sempre qualcuno che sta male c'è sempre qualcuno che viene salvato dalla lettura ma quanti di questi libri sono un pretesto per raccontare veramente qualcosa e quanti sono invece un po' questi prodotti confezionati molto bene con queste copertine molto graziose perché da persona che li compra talvolta senza rifletterci troppo mi viene da chiedermelo quanti di questi libri poi sono effettivamente hanno effettivamente un messaggio dietro di un certo tipo lo dico proprio perché appunto quando ho iniziato a leggere la libreria dei giusti consigli la biblioteca dei giusti consigli l'ho fatto senza avere nessuna aspettativa ma avendo il consiglio di un'amica che quando stavo leggendo Rebecca mi aveva detto ah di Rebecca si parla nel libro che sto leggendo adesso quindi diciamo che avevo già un riferimento di qualche tipo però l'ho affrontato veramente senza nessuna aspettativa pensando che sarebbe stato l'ennesimo libro grazioso ma un po' vuoto su questo mondo delle biblioteche delle librerie dei librai invece devo dire che mi ha stupita positivamente e così in realtà spero mi succede anche con gli altri titoli anche se per esempio le ragazze della libreria bloomsbury l'ho acquistato con le migliori intenzioni e speranze altissime in realtà ne ho già letta più di una recensione poco lusinghiera la libreria di piazza delle erbe per esempio l'ho acquistato effettivamente perché l'avevo visto recensito da una ragazza che seguo ma anche in questo senso non ho proprio tantissime aspettative un discorso un po' diverso è la libreria in collina che è un audiolibro che avevo iniziato ad ascoltare non era il suo momento quindi l'ho interrotto però quello secondo me può fare al caso mio però già lì secondo me c'è qualcosa di diverso stessa cosa si dica per una vita da libraio che ho comprato milioni di anni fa non ho ancora letto sul quale però nutro abbastanza speranze perché si tratta comunque di una di un diario di un libraio vero e quindi non è una storia insomma costruita un po' a tavolino però questo dubbio mi resta sempre perché mi chiedo quanti di questi libri effettivamente poi ti lasciano qualcosa e quanti siano un po' una riproposizione di queste storie un po' standard dove insomma comunque i libri hanno questo potere salvifico per non entrare in tutto il filone romance che riguarda le librerie perché anche di quello ce ce n'è una marea su persone che si incontrano grazie ai libri lo stesso titolo di jenny colgan che avevo letto io qualche anno fa che comunque è un romance in cui lei perde il lavoro e si apre la libreria nel furgoncino magari quello aveva un twist in più però anche nel filone romance libri che parlano di biblioteche librerie e amanti dei libri ce n'è quanti ne volete anche un altro titolo super deludente che io avevo abbandonato poi lo strano caso dell'apprendista libraia mi sembra fosse usava assolutamente come un pretesto la libreria in cui lavorava la protagonista perché di libri librerie amanti dei libri c'era veramente poco lì è lì che ho iniziato un pochino è lì che sono rimasta un po' ferita ho iniziato un po' a dubitare tutti questi libri non ho smesso di comprarli c'è da dire però ho iniziato un pochino a dubitarne perché in alcuni casi mi sembrano proprio copertine costruite ad hoc con i libri sullo sfondo questi ambienti super coccolosi e insomma queste storie un po' confezionate per piacere a chi ama i libri però faccio ancora molta fatica a identificare quali potrebbero effettivamente piacermi e darmi qualcosa perché per esempio la biblioteca dei dei giusti consigli a me è piaciuto un sacco e effettivamente ci ho trovato qualcosa per me dentro e appunto faccio fatica a distinguere quelli magari un po' più sostanziosi un po' più insomma carichi dal punto di vista del significato e quelli proprio appunto confezionati per essere dei prodotti appetibili per gli amanti dei libri e della lettura quindi in realtà un po' a parte fare questo excursus dei titoli che ho già letto che magari considero un po' su un piano diverso e di tutti quelli che ho acquistato in preda all'entusiasmo e che a volte non ho ancora il coraggio di leggere perché ho paura di rimanere delusa mi piacerebbe chiacchierare con voi di libri che parlano di libri e sapere se ne avete qualcuno da consigliare perché io sono perennemente alla ricerca di bei libri che parlino di libri librerie biblioteche librai e quant'altro ma appunto ho un po' paura delle delusioni sto cercando di trattenermi un po' quando li vedo in offerta perché comunque ne esistono talmente tanti e talmente simili che non voglio rischiare di acquistarli in preda all'entusiasmo solo perché c'è una bella immagine in copertina e poi ritrovarmi più o meno a leggere sempre storie simili quindi se avete consigli su titoli di questo genere diciamo che siano coccolosi da leggere ma non vuoti che abbiano delle belle atmosfere ma magari anche dei bei personaggi un bel messaggio cioè qualcosa che non sia proprio un po' fine a se stesso sono tutta orecchie perché mi piacerebbe tantissimo continuare su questo filone continuare a leggere titoli del genere perché so che mi possono piacere perché so che mi scaldano il cuore perché so che sono il tipo di letture che poi alla fine mi coccola però dall'altro lato non voglio incappare sempre negli stessi meccanismi di acquistare in maniera compulsiva dei titoli perché sono molto belli da vedere e mi richiamano l'amore per la lettura e poi magari in realtà a livello di contenuto c'è molto poco quindi qualsiasi consiglio su titoli che avete letto amato che mi consigliereste oppure al contrario titoli che secondo voi sono un po' troppo ben confezionati ma poveri di contenuto parliamone assolutamente perché so che questo è un veramente un punto debole per me molto debole sul quale ricado più e più volte chiacchieriamo di libri che parlano di libri consigliatemi se avete qualche titolo particolarmente carino se avete letto qualcosa che secondo voi può essere nelle mie corde in base un po' a quello che vi ho raccontato in questo libro come sempre lo spazio qui sotto è tutto vostro e non vedo l'ora di avere i vostri consigli perché sono titoli appunto che in generale mi interessano sui quali magari mi piacerebbe fare un bel video articolato con quelli che io consiglio quelli che invece non consiglio cosa che ora non riesco ancora a fare perché secondo me non ho intanto non ne ho letti abbastanza ma poi non riesco bene a separare dei filoni veri e propri come mi piacerebbe fare per un video dedicato quindi scatenatevi per favore con i consigli io vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo il vostro affetto i vostri commenti e insomma in generale tutta l'attenzione che mi dedicate grazie come sempre per tutto il supporto che mi dimostrate e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao